Ciao, oggi è giovedì 21 gennaio 2021. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega in maniera semplice e senza dare niente per scontato le cose utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi parliamo ovviamente del nuovo presidente americano Joe Biden, ma soprattutto della vicepresidente Kamala Harris e della variante inglese del virus che ci fa paura ma su cui c'è anche qualche buona notizia. E vabbè, non possiamo non iniziare dagli Stati Uniti. Joe Biden ha giurato ed è ufficialmente il 46esimo presidente. Donald Trump, come vi avevo detto ieri mattina, non ha assistito al giuramento del suo successore, una cosa che non capitava da 150 anni, ma rispetto ai timori dei giorni scorsi è sembrato quasi un male minore. Perché? Vale la pena di rinfrescarci la memoria ancora una volta? Perché ormai succedono cose talmente incredibili e a una tale velocità che eventi che un tempo avrebbero segnato un'epoca ora vengono dimenticati nel giro di una settimana. Il 6 gennaio, praticamente l'altro ieri, dopo settimane che Trump dichiarava illegale e rubata l'elezione di Biden, un gruppo di gente armata ha assaltato il congresso, cioè il Parlamento degli Stati Uniti, e sono morte 5 persone. Quindi ieri, quando Trump, in maniera tutto sommato ordinaria, è uscito per l'ultima volta dalla Casa Bianca ed è salito sull'elicottero che l'avrebbe portato via, beh, tanti di noi fino all'ultimo momento hanno pensato che potesse ancora succedere qualcosa di assurdo, imprevisto o folle. Invece no. L'ultimo atto di Trump da presidente è stato perdonare qualche decina di persone alle quali ha concesso la grazia presidenziale, praticamente tirandole fuori dalla galera o da qualche brutto processo. In molti casi si trattava di gente che si era messa nei guai per aiutarlo o alle quali, in un modo o nell'altro, doveva dei favori personali. Ma vabbè, ora Trump è davvero l'ex presidente degli Stati Uniti. E Biden ha intenzione di farlo dimenticare più in fretta possibile. Nel suo primo giorno alla Casa Bianca, subito dopo il giuramento, il nuovo presidente ha firmato una serie di ordini esecutivi, cioè praticamente delle leggi immediatamente operative, che cancelleranno molte decisioni di Trump. Solo per dirne alcuni. Gli Stati Uniti torneranno negli accordi di Parigi, che sono gli accordi firmati da quasi 200 paesi che si sono impegnati a ridurre l'uso del carbone, del petrolio e dei gas serra. Sarà bloccata la costruzione del muro tra gli Stati Uniti e il Messico contro gli immigrati e anche sarà rivisto il divieto di arrivo negli USA da molti paesi islamici. Anche queste due erano state decisioni di Trump. E poi saranno presi dei provvedimenti importanti e simbolici contro il Covid, un'emergenza che Trump aveva sempre negato, col risultato che oggi gli Stati Uniti sono il paese con più morti di Covid al mondo, più di 400.000 vittime fino a ieri. Biden farà tornare gli Stati Uniti nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla quale appunto erano usciti dopo l'esplosione della pandemia, e imporrà l'uso delle mascherine in tutti gli edifici federali. Ma a proposito di eventi storici ai quali ormai non facciamo neanche più caso, la cosa importante che è successa ieri a Washington non è la fine di Trump e neanche il giuramento di Biden. L'evento davvero storico è che gli Stati Uniti, cioè la più grande potenza del mondo, da ieri hanno una vicepresidente donna. E che donna? Kamala Harris ha 56 anni ed è figlia di madre indiana e di padre giamaicano. Quando era molto piccola i genitori hanno divorziato ed è stata cresciuta solo dalla madre in Canada. Poi è tornata negli Stati Uniti dove ha studiato legge e da allora ha già avuto tutta una serie di primati. Considerate che negli Stati Uniti i giudici sono eletti e Kamala Harris è stata la prima donna procuratrice di San Francisco e la prima donna procuratrice di tutta la California. Poi è entrata in politica e subito è diventata la prima senatrice nera eletta in California. E insomma dopo gli anni di Trump Kamala Harris è il simbolo e anche la speranza di un mondo in cui anche chi non nasce uomo e chi non nasce bianco può puntare ai posti più alti della società. E poi bisogna ricordare una cosa importante. Quando si voterà per il prossimo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden avrà 82 anni. Noi ovviamente gli auguriamo una vita lunghissima e felice ma quella comunque sarebbe un'età veramente alta per ricandidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. E a quel punto Kamala Harris, donna, figlia di immigrati, cresciuta da una madre sola, avrebbe buone possibilità di raggiungere un nuovo primato veramente storico e cioè essere la prima donna a guidare la più grande superpotenza del pianeta. E ora scusatemi se smettiamo di sognare e vi riporto bruscamente alla realtà. Come si temeva la cosiddetta variante inglese del virus sta facendo danni. Vi ricordo che questa è solo una delle tante mutazioni individuate nel coronavirus. Una mutazione che lo rende più contagioso. La letalità, cioè il numero di morti che il virus mutato fa tra i contagiati, questo ce lo spiegano gli esperti, non è superiore a quella del coronavirus diciamo così normale. Ma ovviamente se si ammalano più persone in proporzione aumentano anche i morti. E comunque aumenta la pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive. In Gran Bretagna ieri i nuovi casi sono stati 39.000 e i morti più di 1800. Proprio per paura che la variante inglese si diffonda Francia e Germania hanno annunciato misure più severe nei loro paesi e hanno proposto anche la chiusura delle frontiere con gli altri paesi. Però c'è anche qualche buona notizia. Secondo due studi appena pubblicati i vaccini attualmente in commercio sia quello di Pfizer che quello di Moderna sembrano efficaci contro questa variante. Proprio oggi il capo del governo britannico Boris Johnson commentando l'alto numero di morti ha ammesso che le prossime settimane saranno molto dure ma ha anche detto che grazie alle vaccinazioni in Gran Bretagna contate che a oggi sono state già vaccinate oltre 4 milioni e mezzo di persone, in Italia siamo a poco più di un milione e duecentomila, Johnson ha detto che in primavera la situazione sarà molto diversa e davvero lo speriamo tutti. E anche per oggi è tutto, Newsbox torna domani. Se avete domande mi trovate su Instagram o su TikTok, basta cercare Newsbox o Alessio Balbi il mio nome. Newsbox è anche su Alexa, se volete potete attivare la skill e aggiungerla al vostro sommario quotidiano. Ciao e a domani!